Martedì 28 novembre ci troviamo a Bologna per un nuovo workshop di infoprogetto organizzato da Action Group Editore, tema della giornata Il Contract. Più di 200 progettisti hanno partecipato a questa giornata di formazione, tante anche le aziende che hanno potuto raccontare le novità presenti oggi sul mercato. Allora vediamo il servizio che abbiamo realizzato. Siamo molto contenti, diciamo che gli architetti anche qua a Bologna hanno recepito bene le novità che abbiamo esposto soprattutto nel campo delle pavimentazioni viniliche e quindi vedo che sono curiosi, ci hanno fatto domande per casistiche di progetti diversi. Oltre all'evoluzione delle pavimentazioni viniliche, quindi gli LVT affianchiamo e presentiamo oggi il prodotto Evolution Vertical che è un rivestimento murale in LVT con tutte delle caratteristiche molto particolari e devo dire ha suscitato parecchia curiosità.